Quali caratteristiche differenziano i vostri peer dai prodotti degli altri competitor sul mercato? Arca è stata tra le prime società a lanciare i piani individuali di risparmio già a febbraio di quest'anno. Attualmente abbiamo anche una gamma che è particolarmente articolata perché abbiamo addirittura 4 prodotti e penso che siamo tra le SGR che hanno la gamma più articolata in Italia. Complessivamente abbiamo raccolto circa 700 milioni ma sui piani individuali di risparmio abbiamo quasi un miliardo e tre di masse, quindi il tema è molto importante. Come abbiamo strutturato questa gamma? Sicuramente ad oggi è composto da due fondi azionari e da due fondi bilanciati. Quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di creare dei fondi che fossero differenziati in funzione del profilo di rischio dell'investitore. Infatti abbiamo un bilanciato prudente e un bilanciato moderato oltre a due fondi azionari. Ma il secondo elemento è che abbiamo cercato di contraddistinguere uno di questi prodotti con degli elementi specifici in maniera tale che i prodotti siano in qualche maniera tra di loro complementari e che quindi possano essere anche utilizzati in una logica di portafoglio. Facciamo degli esempi concreti. Nel nostro bilanciato 30, che è stato il primo ed è stato connotato con la massima semplificità, gli investimenti sono sull'azionario italiano mid cap, 30%, titoli corporate italiani e titoli governativi. Massima semplificazione e semplicità per l'investitore. Ma già il bilanciato 55 è stato diversificato sull'azionario internazionale e sull'azionario large cap, quindi abbiamo già introdotto due asset class in più rispetto al bilanciato 30, quello più prudente. Se poi andiamo sul mondo azionario, i due prodotti sono totalmente complementari perché Arca Azioni Italia investe principalmente sulle large cap, mentre Arca Economia Reale Equity Italia invece è un fondo focalizzato sulle mid, small e micro cap. Quindi sono due mercati anche tra di loro complementari, infatti gli indici di riferimento sono diversi. Uno è il Fuzzimib e il secondo investe invece più sull'AIM e sullo Star. Qual è l'identikit dell'investitore in Peer? Allora l'investitore Peer deve essere un investitore che ha un orientamento al medio e lungo periodo e con un profilo di rischio a meno moderato. Quindi l'investitore deve avere la capacità di sopportare un certo livello di volatilità anche contenuto a fronte di risultati ottimizzati su un periodo di riferimento che come sappiamo sui Peer è almeno 5 anni. Direi anche a questo punto a chi non è adatto un Peer perché a questo punto vale la pena anche specificare quali sono le caratteristiche che un investitore non ritrova all'interno dei piani individuali. Un investitore che ricerca la protezione e la garanzia del capitale o rendimenti garantiti non è un investitore per i piani individuali di risparmio. Ad oggi la gran parte degli investitori sono investitori che già avevano prodotti di risparmio gestito e che quindi sono già in qualche maniera abituati a sopportare un minimo livello di volatilità o anche discreto a fronte di ritorni di lungo periodo. La vera sfida sarà ampliare il più possibile la gamma di clienti che inizieranno a sottoscrivere i Peer andando anche verso clienti che tradizionalmente non sono abituati al risparmio gestito.